Oh raga, voi guardate, oh, tripleto di Yaki Williams in Champions, modalità campione, guardate quanto sono forte, oh, Marco dice, eh, Ryan non è forte a FIFA, guarda, ok, guardate che cazzo l'ho fatto, ok, guardate, guardatemi, Williams guardate che schieno ho fatto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, easy.